Finalmente ragazzi, Suso ha rinnovato il contratto, rinnoverà fino al 2021 e prenderà 2 milioni di euro a stagione, se non mi racconto male. Ciao ragazzi, benvenuti su Plani Milan con Pezzolo Massimo e oggi siamo ancora per parlare del rinnovo di Suso. Suso, finalmente dopo tantissimo tempo, ha rinnovato il contratto con Milan. Come ho detto prima, sarà un contratto biennale fino al 2021. Alla fine Alessandro Lucci, Suso e Milano sono riusciti a trovare un accordo e Suso ha rinnovato più volte che voleva rimanere a Milan e io sono contentissimo che Suso sia rimasto perché è un giocatore che mi ha fatto sempre impazzire, sia la prima volta che è arrivato. Poi da quando abbiamo andato in presidio al Genoa, lì si era capito che era un giocatore fortissimo e quindi sono contento che sia rimasto. E appunto è pronto a riprendersi la maglia da titolare con il Craiova domani, che ricordiamo che l'annata è stata venuta 1-0 per il Milan, quindi Suso partirà a titolare e io sono contentissimo di tutto questo. Non ha giocato le pareti in Cina, è la prima volta di Europa League per problemi fisici, quindi l'importante è che sia tornato per il campionato e per l'Europa League e che torni forte come prima, cioè sarà già forte come prima. Quindi ragazzi, questo video è finito, spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un bel po' in su, commentate e iscrivetevi, seguite i nostri profili Instagram e Facebook, clicchi in descrizione e noi ci vediamo con il prossimo video. Ciao ragazzi, sempre forse a Milan, grande Suso, grande!